E' arrivata una lettera da Katsu in persona. Ma chiede il nostro aiuto per una questione. Sin da quella notte non vedo l'ora di fare qualcosa. Voglio aiutare a cambiare la nazione. Ma deve esserci un modo migliore. Me lo sentivo che saremmo stati d'accordo. E che non riesco più ad accettare i metodi di Gensui. Katsu sta cercando di realizzare una sua visione per questo paese. Ti ricordi quello che ha detto sulla barca, vero? Temo che alcuni eventi fossero inevitabili. Ma mi sento ancora un po' alla deriva. L'istinto mi dice di scoprire dove possiamo spingerci con Katsu. Però non significa che troncheremo i rapporti con Gensui. Lavoreremo con Katsu per ora. Ma senza abbandonare Gensui e gli altri. Ci conviene andare a casa di Katsu o ad Akasaka. Ci starà aspettando lì. Lavoreremo con Katsu Non temere. Noi vogliamo crederti sulla parola. In tal caso iniziamo. Dunque, per rinnovare lo shogunato dobbiamo imparare dall'Occidente e sfruttare i punti di forza del Giappone. Però ci servono reclute che siano nell'esercito, in campo medico o nelle arti marziali. Ed è qui che entrate in gioco voi. Molto bene! Vi prego, non deludetemi. Ora temo di avere altre questioni di cui occuparmi. Venite a parlarmi quando avrete fatto ciò che vi ho chiesto. Ti dispiace se lascio a te la questione dell'esercito? Quel tipo di cose non è proprio il mio forte. Grazie. E non temere, non lascerò tutto nelle tue mani. Farò il possibile per aiutare. Ah, ecco ti qui. Ah, in realtà ero solito venire qui di continuo, sai? Ma l'ultima volta le cose non sono andate esattamente come previsto. Scusami, è che non so proprio come dirtelo. In sostanza, oggi non me la sento di entrare lì dentro. Perché non ci occupiamo di altro prima? Ah, va bene, va bene. Solo per plasmare un nuovo Giappone. Con ogni probabilità Ciro sarà al dojo a quest'ora del giorno. Rioma, da quanto tempo! Vero, mi fa piacere rivederti. Sono qui per chiedere un favore, in realtà. Per poter cambiare la nostra nazione sto cercando di capire come rinnovare lo shogunato. e per farlo mi serve l'aiuto di spadaccini esperti come te. Riformare lo shogunato? Bisogna sicuramente rifletterci su. Mi serve un po' di tempo per pensarci, va bene? Inoltre, sembra che la fanciulla demone dei Chiba voglia vederti. Non farla attendere. Oh, Rioma! Oh, no, no! Volevo proprio vederti! Sei tornato per chiedermi la mano! Vero? È un piacere rivederti, Lady Sana, ma... mi spiace. Al momento sono fin troppo occupato per pensare a questioni simili. Oh! Stai cercando di sottrarti alla tua promessa? Ebbene, se hai intenzione di respingermi... Allora, combatte contro di me! Va bene, va bene, ma... lo sai bene che... non sono mai stato in grado di non andarci piano con te. Vabbè, il mio amico è forte tanto quanto me? Perché non vi battete voi due, invece? Combattere, dici? Ho i miei dubbi, ma se ti farà finalmente tener fede alla promessa, allora accetto. ti avviso, non perderò. Ryoma sarà mio. Dunque, vorrei certo restare, ma vi lascio un po' di intimità. Forza! combattiamo! La tua avversaria è Sana Jiva, nipote di Suzaku, in guardia. non la wrists collaboration rocka, non l'abbiamo Ahha! Nagando! Sì, non perdono non mentire, sei da te, forse come lui. Se pensi che sia ancora una ragazzina, sei in errore. Basta, Lady Sana, per favore! Arrendi! Ci sei! No, no, ancora finito! Non... Ehi, Lady Sana! Bene, grazie. Mi hai davvero salvato. Ehi, Lady Sana! Ehi, Lady Sana! Ehi, davvero un bel lavoro! Se stai cercando Rioma e Lady Sana sono fuggiti da qualche parte, ma li lascerei soli per ora. Inoltre, avete detto di volere il mio aiuto per riformare lo shogunato, giusto? Molto bene, battimi e vi presterò aiuto. Ha ha! Non trattenerti di grazia! Mostrami cosa sai fare! Non trattenerti di grazia! Non trattenerti di grazia! Ehi, la mia vita! Ehi, la mia vita! Ehi, la mia vita! Capisco perché Rioma conta su di... Capisco perché Rioma conta su di... Sembra che io non debba trattenerti! Ehi, la mia vita! Non pensavo di finire all'esterno! Non pensavo di finire all'esterno! Si sta mettendo male! D'accordo! Hai vinto! I samurai sono persone di parola! Ti aiuterò! Ti aiuterò! Non perdi un colpo, vedo! Ah, Ciro! Cosa succede? Sana e Rioma sono scappati da qualche parte? Ah, se sei! Chiedo scusa per il disturbo! Mi stavo allenando con questa persona! Non ti ho mai visto prima! Posso chiederti come mai sei qui? Sì! Probabilmente è l'idea migliore! Pare conosca Rioma! Afferma che stanno cercando degli spadaccini abili nel tentativo di riformare lo shogunato! E sono anche molto seri al riguardo! Hanno usato le maniere forti per convincermi ad aiutare! Diamine! E se un maestro come a Ciro ha perso? Ma se cercate combattenti abili, perché non vi recate al Dojo Odani? Il maestro Odani è conosciuto da tutti gli spadaccini, Aedo! Vi sarà sicuramente di grande aiuto! Ma torna pure quando ti aggrada! Dato che conosci Rioma, le nostre porte sono aperte anche a te! Sì! Grazie a tutti.